Quali tipologie di pazienti trattate? Santa Viola è un ospedale privato che da poco ha aperto le porte per i pazienti privati che possono arrivare qua da noi, dal domicilio, preve un colloquio con i medici della nostra struttura. Più noi lavoriamo anche in convenzione per i pazienti arrivati come lungodegenti dai reparti dei acuti con diverse problematiche cliniche ancora in corso da definire, ancora da completare qualche terapia, da fare qualche esame serato, da completare anche la terapia con ossigenoterapia, domiciliare e tutto. Poi i pazienti che arrivano dai reparti chirurgici, ortopedici, per una riabilitazione estensiva. Riabilitiamo sempre anche i pazienti dai reparti stroke con ictus, pazienti cardiologici, pneumologici, che prima del ricovero avevano anche un'autonomia, che durante questo ricovero un paziente anziano perde facilmente tutta l'autonomia di prima. e anche un'altra realtà molto importante per Bologna è il reparto con i pazienti con disturbi della coscienza, cosiddetti stati vegetativi.